Buona giornata a tutti, ben ritrovati su Rossine TV, oggi è martedì 17 ottobre, siamo in diretta così come tutte le mattine dal lunedì al sabato per leggere assieme a voi i quotidiani locali, i titoli più importanti del giorno. Poi chiaramente l'invito è sempre quello di seguirci questa sera 19.30 in replica alle 20.30 con il nostro telegiornale con tutte le notizie aggiornate per la giornata di oggi. Com'è il tempo? Ancora abbastanza docile, diciamo così, questa mattina alle 7.20 in questo momento si percepiscono 16 gradi a Pesaro e dintorni, c'è una lieve nuvolosità che andrà avanti per tutta la giornata di oggi, un'umidità percepita al 65%. Vediamo che cosa ci racconta la nostra webcam che oggi si accende su Cagallo, anche in questa situazione vedete una situazione di lieve nuvolosità e questo è il bellissimo territorio del nostro, del pesarese, diciamo così. Saluto coloro che sono già collegati sui nostri social e coloro che ci stanno guardando anche in diretta con la nostra applicazione che vi ricordo è gratuita, è molto facile da usare, potete avere Rossini TV sempre sempre con voi. Ecco qui è gratis, è veramente fatta molto bene, vi servirà quando vorrete vedere le notizie del vostro territorio oppure anche dei programmi in diretta, magari quando siete fuori regione. Ed ora andiamo alle notizie, oggi veramente sulle prime pagine dei quotidiani si parla di questo brutto fatto di cronaca, un racconto che sembra incredibile. Come è possibile venire aggrediti in questo modo brutale solo per aver detto a un'automobilista di andare più piano, solo per aver fatto questo gesto, vai piano, questo automobilista è andato su tutte le furie, guardate come ha ridotto questo titolare direttore di un supermercato, lui si chiama Matteo Bastianelli, ha 46 anni, guardate in ospedale, come è arrivato in ospedale ridotto davvero in fin di vita quasi, eppure è stato salvato poi da un netturbino perché questo altro uomo che lo ha picchiato avrebbe continuato a farlo e chissà come sarebbe potuto finire questa storia. Vai piano, massacrato in strada, fa segno di rallentare, automobilista lo investe per prima cosa, lo prende a martellate e poi scappa alla vista di un netturbino, arrestato poche ore dopo. Ma pensate veramente cosa scatta nella mente di un uomo per arrivare a così tanta violenza, è allucinante davvero. E poi nelle prime pagine del resto del Carlino si parla dei primi passi per la maxisfera in piazza, non ci sono grandi novità perché tutto è stato già annunciato agli stati generali del turismo, a breve verrà collocata questa sfera che sarà il simbolo di Pesaro, capitale della cultura. E poi altre novità per questo Natale, per il Capodanno, insomma sarà veramente, inizieranno veramente a prendere via tutti gli eventi che ci accompagneranno poi a Pesaro, capitale della cultura ed è confermata per Natale la pista di ghiaccio. Attenzione perché le fiere del tartufo non sono finite nel nostro territorio, anzi arriva quella di Aqualagna ed è stata presentata proprio a Roma ci sarà anche la sfida fra città e poi CNA parla dell'allarme sulla contessa, la aprono e poi richiudono e poi si parla ancora di politica Quaroli blinda tutti, la squadra non si discute. Oltre due mesi in zona mare per le pulizie delle caditoie, occhi e lavori alle multe quindi di non parcheggiare dove è segnalato che proprio in quel posto appunto ci sarà la pulizia delle caditoie quindi ci faranno delle multe. Guardiamo anche la prima pagina del Corriere Adriatico e qui lo stesso c'è la fotonotizia di questo uomo che ecco qui lo vedevate Matteo Bastianelli come è arrivato in ospedale e qui lo vedete invece come nella realtà poi vedete investito e preso a martellate lo supplicavo di smettere. Pensate anche che shock che questo uomo insomma che con un gesto semplice si è ritrovato in preda a questa furia veramente devastante di questo altro uomo incensurato e poi vedremo anche chi è e cosa gli sarà passato per la testa. Oggi sul Corriere Adriatico trovate anche un approfondimento sul parcheggio. Questo parcheggio ha Porta Cappuccina che piace a tutti con la variazione al piano regolatore per l'acquisizione dell'aria in consiglio dicono tutti sì. I paletti solo sulle scelte tecnico ok anche all'operazione San Benedetto e poi si parla a Gabice Mare un'altra situazione di violenza un agguato a pugni e coltellate i fratelli vanno davanti al giudice. A Pesaro Medici a Gettone cortocircuito della regione e poi ci sono novità per quanto riguarda il convitto all'istituto agrario Cecchi e l'area ex agi Pafano e ripristino previsto a carico dell'Eni. E allora scriveteci i vostri commenti. Michela già sta scrivendo. Non c'è più rispetto educazione, c'è tanta rabbia e nervosismo. È vero Michela perché questi sono gesti che non sono assolutamente comprensibili che nessuna mente sana e tranquilla compirebbe mai e invece ci troviamo ad avere paura anche di fare un gesto mentre siamo in auto. Pensate cosa è accaduto a questo uomo. Allora due pagine addirittura il resto del Carlino dedica questa notizia perché è davvero eclatante. Vai piano e scatta la follia, lo investe, lo prende a martellate, poi fugge con l'auto, viene subito arrestato per fortuna. È incredibile a Fermignano massacrato. Solo per aver fatto cenno col braccio ha un automobilista di rallentare. La vittima è il titolare del Conad. L'aggressore preso dopo qualche ora è un bidello di 37 anni. E pensate a questo bidello che lavora negli istituti scolastici dove sono bambini molto piccoli. Con un'aggressione tale io non voglio immaginare quale sarebbe potuto essere anche altri sfoghi di questo uomo così pericoloso. Va in scena la follia ieri mattina alle 6.45 in via Piave a Fermignano. Alla guida di una Ford Focus scura che sfreccia l'incrocio verso Urbania c'è un bidello di 37 anni del posto. Simone Babbini è incensurato, separato, fa l'operatore scolastico appunto nelle scuole del circondario, materne e primarie, ma non ha un posto fisso. Quando vede l'altro, appunto questa povera vittima, che gli face gesto di andare più piano, gli blocca l'auto, fa inversione, la punta verso l'uomo che aveva alzato il braccio, vuole vendicarsi. Questo uomo poveretto che si trova in questa situazione è Matteo Bastianelli di 46 anni, titolare del Conad, sposato, due figli, abita circa 600 metri da lì e sta andando a lavoro. Il bidello lo investe, Bastianelli si trova sotto l'auto ma riesce a rialzarsi per fuggire, l'altro lo insegue e inizia a colpirlo con il martello alla schiena. Il martello non è di grosse dimensioni, è uno di quello che si usano per i lavori in casa, ma è pur sempre un martello. L'uomo si avventa contro di lui anche con calci e pugni. Qui vedete le immagini di guardrail, sporco di sangue, perché il povero Matteo ha cercato di scavalcare addirittura a questo guardrail per fuggire. Il 37enne ormai è una furia cieca e lo colpisce anche lì, tanto che gli romperà lo zigomo. Bastianelli però riesce a divincolarsi e a fuggire verso il vicino guardrail, che poi infatti viene macchiato con questi schizzi che vedete qui. Per fortuna un netturbino è arrivato sul posto, ha visto la scena, ha urlato all'uomo di fermarsi, lascialo stare, gli dice, e poi i carabinieri della compagnia di Urbino lo ritrovano subito. Pensate se non fosse arrivato il netturbino in tempo, questa furia omicidia, un uomo con il coltello. Guardate come è stato ridotto questo povero ragazzo. Matteo, il sangue e il terrore, qui c'è addirittura un'intervista di Alessandro Mazzanti, che vi consigliamo poi di leggere, non l'andiamo a leggere tutta perché vogliamo lasciarvi a voi le notizie dettagliate. che sono riportate sul giornale. Il racconto shock del 46enne direttore del Conad, gli dicevo, fermati, ho due figli, e lui continuava. La presenza di quell'operatore alla fine l'ha fatto desistere e io sono vivo. Mi sono ritrovato sotto il cofano dell'auto, poi ce l'ho fatta tirarmi fuori. Mi ha inseguito fino al guardrail, voleva gettarmi nel diruppo sopra il fiume. Chi è questa povera vittima che vedete qui? Matteo Bastianelli, lui è il direttore del Conad di Fermignano. Dovrà sottoporsi a degli esami maxilofacciali per il volto. Insomma, questo vedete ha fatto l'attack total body, a cui è stato sottoposta ieri, era negativa, nessuna frattura, solo lo zigomo colpito dal martello, che è stato completamente fratturato. Ho detto tutto a mia moglie piangendo, chi mi vedeva ha pensato a un incidente, invece è stata una vera e propria aggressione. Ornella, purtroppo anche da noi mandano gli insulti, c'è paura, se si rispettano le regole della strada fanno questi insulti. E poi Michela, licenziamento immediato e lavori forzati, gli passa la voglia di fare il prepotente. È proprio così, Michela, grazie, scriveteci pure, appunto, e capisco che queste notizie siano delle notizie che vi colpiscono fortemente, come colpiscono anche noi che le leggiamo tutti i giorni, perché non ci aspettiamo mai che una persona possa avere così tanta rabbia e avere queste reazioni con un gesto veramente stupido che è stato fatto. Cambiamo argomento, ma restate con noi, perché ritorneremo anche nel Corriere Adriatico a parlare di questo argomento con altre notizie. Intanto, occhio che arriva il Natale, sembra quasi una minaccia, invece, insomma, è una cosa positiva. Torna alla pista di patinaggio e si lavora per la maxisfera, questa maxisfera che si chiamerà la Sfera della Vita e che, insomma, sarà la scultura iconica di Pesaro, capitale della cultura 2024. Una sfera tecnologica di 4 metri di diametro che richiamerà la terra, ma anche il simbolo della palla di pomodoro di Pesaro. E poi, insomma, inizieranno veramente con questi prossimi festeggiamenti delle festività natalizie e del Capodanno a vedersi, insomma, i primi momenti di Pesaro, capitale della cultura. L'assessore Francesca Frenquellucci, una persona che non fa due volte lo stesso errore con Massimiliano Santini e il vice sindaco Daniele Vimini, ha tagliato la testa al toro, tornando allo stile tradizionale. Non solo ci saranno le casette di legno in Piazza del Popolo, dopo le polemiche che c'erano state lo scorso anno, e non più i gazebi in tessuti rosso che per via del freddo hanno fatto vedere i sorci verdi agli artigiani del mercatino in piazza, ma l'amministrazione ha chiesto una soluzione tra le proposte commerciali da proporre in piazza. Vero, vogliamo un mercatino di livello dopo le polemiche che ci sono state appunto lo scorso anno. A fondo pagina c'è anche questa notizia che riguarda la giunta regionale. Il governatore interviene dopo il caso politico sollevato dalla Lega, ma dice che la squadra non è assolutamente in discussione. E quindi squadra confermata, credo che la squadra non sia mai stata messa in dubbio, dice appunto il presidente Aquaroli che vedete nella foto. E poi attenzione perché insomma si sta procedendo, come abbiamo detto anche noi nel nostro telegiornale, alla pulizia delle caditoie per scongiurare eventuali allagamenti in vista magari di un prossimo brutto tempo. E allora ci sono divieti per due mesi, dovete osservarli perché ci sono delle multe molto salate. E allora qui trovate anche un po' la mappa, ma io adesso vi vado a dire alcune vie, ma sicuramente poi vedrete i cartelli, chiaramente non potete parcheggiare in prossimità delle zone segnalate. Vietato parcheggiare per pulizia caditoie, la sosta con rimozione interesserà per questa prima fase sperimentale, le sei vie della zona mare, dal 23 ottobre al 31 dicembre, perché il Comune appunto, in collaborazione con Marche Multiservizi, vuole portare avanti questa operazione di pulizia delle strade nella zona mare. Quali vie? In quali giorni? Viale Trento, Viale Battisti, Viale Trieste, Viale Pagano e poi ancora la sosta con rimozione verrà su ambo i lati, dalle 12 alle 18, in Viale Trento ogni lunedì, nel tratto che è compreso tra Viale della Repubblica e Viale Napoli, in Viale Battisti ogni martedì. Insomma, non ve li vado a leggere perché poi chiaramente vedrete dei cartelli grandissimi e non vi potete sbagliare. Sonia Vicky, in certi luoghi di lavoro, soprattutto con i bambini, prima di essere assunti il personale tutto deve essere sottoposto a visita psicologica. Sonia, sono veramente d'accordo con te, perché quando ho letto che questo uomo faceva il bidello nelle scuole, negli asili, nelle scuole elementari, mi sono allarmata. Cioè, quali sono le persone che entrano a lavorare nella scuola? Sono d'accordo con te, una visita psicologica dovrebbero farla tutti quelli che si trovano a lavorare con persone, diciamo, con minori oppure con persone anche magari nei ricoveri che hanno difficoltà e non possono, diciamo, fare niente per ribellarsi. Quindi sono perfettamente d'accordo con te. Grazie Sonia per il tuo commento. A proposito di scuole, di asili, nido, accolte oltre il 50% delle domande. Questa è la replica dell'assessore Murgia dopo la protesta di una mamma. E poi è pubblicata la graduatoria per i contributi per la cultura 34 realtà. Sono 34 beneficiari all'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a Pesaro nell'ambito cultura per la valorizzazione e promozione della città nell'anno 2023. L'intervento mette a disposizione 137 mila euro, totali da suddividere tra una serie di progetti idonei selezionati dalla Commissione giudicatrice in base alla rispondenza dei criteri enunciati nel bando. E cambiamo ancora argomento, si parla del parcheggio di Porta Capuccina. L'assessore Pozzi dice via ai lavori entro primavera prossima, avrà 145 posti gratuiti e saranno anche all'ombra. Questa è una novità. L'assessore ha ricordato le caratteristiche di quest'area di sosta, che sarà comunque riqualificata. Ci saranno le colonnine per il rifornimento elettrico e l'illuminazione ne farà un posto sicuro. L'assessore Pozzi ha detto che non sarà possibile asfaltare l'aria, anche perché la permeabilità del terreno, che resta alta solo con la terra battuta, è la migliore garazzenzia a fronte di bombe d'acqua. Essendo il parcheggio vicino alla stazione, viene da sé che evitare di inondare i binari diventi prioritario. A proposito di illuminazione, vi do un attimo anche un'esclusiva. Come verrà illuminato, chiaramente questo parcheggio e anche il cavalcaferrovia, così verrà illuminata anche la Madonnina dei Cappuccini, perché insomma sapete che il lavoro di riqualificazione è stato fatto, grazie a Lions Club Pesaro della Rover, al Comune di Pesaro e alla Renco, ma c'è un ulteriore step, cioè quello di illuminarlo, perché in tanti di voi hanno detto ma questa Madonnina era illuminata, perché non è più illuminata? Attendete delle novità perché ce ne saranno e chiaramente noi vi daremo notizia. Domani al via le prenotazioni per la giornata mondiale dell'osteoporosi, visite gratuite a Muraglia e a Fano. Quindi attenzione a usufruite quando ci sono di queste visite, questi check gratuiti, perché insomma fa sempre bene fare un controllo più, piuttosto che uno in meno, MOC gratuite venerdì per la giornata mondiale dell'osteoporosi, è l'iniziativa pensata dall'AST1, che ha organizzato un open day di screening dell'osteoporosi e calcolo del rischio di frattura scheletrica da fragilità per le donne in post-menopausa che non hanno ancora una diagnosi di osteoporosi. Le sedi scelte dal gruppo multidisciplinare sono quelle della medicina nucleare dell'ospedale di Muraglia e di Fano. E' necessaria la prenotazione telefonando domani dalle 14.30 alle 16.30 allo 0721 36 51 00, ripeto 0721 36 51 00, da domani le prenotazioni alle ore 14.30. Milena ci scrive, tornando sull'argomento della pulizia delle caditoie, sono solo in centro o anche in periferia o abito a Villa Fastigi. Al momento Milena stanno provvedendo per la zona mare, quindi poi penso che si sposteranno anche nelle altre parti della città, ma vi daremo notizia. Ed ora alcune notizie del nostro territorio che anche noi seguiremo da vicino. Domani c'è la cerimonia di Confindustria, la festa di Confindustria a Urbino. Appunto, come vi dicevo, ci saranno le telecamere di Rossini TV. La cerimonia sarà a Palazzo Ducale. Ci sarà anche Brugnaro, sindaco di Venezia. Premio di iscrizione alle imprese, sigillo dell'Ateneo. Insomma, la classica festa di Confindustria, che vedrà la partecipazione anche delle nostre telecamere. E poi oggi invece vi segnaliamo i lavori all'Hotel Flaminio con la CISL Marche. Gli stati regionali si decideranno le linee politiche. Un'assemblea è quella che si svolgerà questa mattina all'Hotel Flaminio, che prevede la partecipazione di molte decine di delegati provenienti da tutta la regione. Museo, arte della stampa, le nuove idee di Montacini a Santa Maria delle Fabrecce, l'ultimo gioiello rappresentato dalla stampa delle note introduttive riferite al libro dei proverbi, la cui paternità viene attribuito al re Salomone. E poi invece, per quanto riguarda la campagna di informazione, nello scorso weekend, dalle 10 alle 18, così come avevamo anticipato la scorsa settimana, si è svolto l'appuntamento Io non rischio, buone pratiche di protezione civile. Tanti volontari si sono ritrovati in Piazza del Popolo e sono sempre appuntamenti molto importanti. E poi c'è stata proprio in questi scorsi giorni la presentazione della conclusione della fase dei lavori per quanto riguarda il bunker quota 90 e il rifugio bellico, la cerimonia per la riconsegna simbolicamente a Montecchio. Ucchielli dice un luogo storico nel quale sono state sacrificate tante vite. L'iniziativa è poi proseguita nella chiesa di Montecchio per una messa. Ringrazio tutti, ha sottolineato il sindaco Ucchielli. In particolare Antonella Terenzi, presidente dell'ANCR di Montelabate, che ha collaborato con l'amministrazione comunale al coordinamento di questo importante progetto. Salutiamo anche noi Alessandra. E poi adesso andiamo a Fano e vediamo le notizie che riguardano anche ancora delle proteste da parte di alcuni cittadini per quanto riguarda alcune iniziative dell'amministrazione comunale. In questo caso siamo in Viale Cairoli. Fermate tutto, in città spuntano altre barricate. Un gruppo di residenti contesta infatti il progetto che include l'ampliamento del sottopasso ferroviario. Sbagliati limitarsi a quell'intervento. Occorre una riqualificazione complessiva dell'area. Questo è quanto richiedono appunto i residenti. Il cartiere da 2,5 milioni previsto a giugno è fermo in attesa del parere della soprintendenza. E poi un'altra parte di cittadini, seppur più esigua, denunciano invece il chiasso della centrale a Carrara. Le famiglie sono davvero esasperate. Una difficile convivenza. Malgrado gli interventi di Terna, i disagi non sono cessati. Arpam deve fare le rilevazioni, ma non viene mai. Un grande chiasso che chiaramente disturba questi residenti. Poi andiamo alla pagina 13. In questo caso si parla di cultura perché c'è una bella notizia per la città di Pesaro. Perché Perugino torna a casa. La città si appressa ad accogliere la magnifica pala dopo il restauro che è stato eseguito a Firenze. Una grande mostra a dicembre. Si terrà al Palazzo Malatessiano per celebrare questa pala che vedete qui. E' importantissima la pala di Durante o pala di Fano firmata da Pietro Vannucci, universalmente noto come il Perugino, rientra in città dopo il prestigioso restauro che è avvenuto a Firenze. E poi Alfio, buongiorno. La pulizia delle caditoie non dovrebbe essere un fatto straordinario, ma una manutenzione ordinaria. E invece fa notizia. Fa notizia perché a quanto pare bisogna annunciarlo che si fa questa pulizia delle caditoie. Dopo, insomma, avete visto gli alluvioni, il fatto che i nostri tombini sono spesso otturati, gli allagamenti delle strade. E allora, insomma, ringraziamo che ci sia questa pulizia, anche se, come dici tu Alfio, dovrebbe essere manutenzione ordinaria. Hai proprio ragione. Andiamo adesso a Pergola. Qui si parla dell'ospedale. Adesso parlano i tecnici. Dopo le schermaglie tra esponenti PD, Assessore Baldelli, l'azienda sanitaria e la struttura regionale spiegano la natura degli interventi da 30 milioni. Biancani, scelte non conformi con il decreto ministeriale. La replica nulla va contro le norme. E poi vediamo anche le notizie di Urbino. Avvicendamento di frati al convento di San Bernardino. E qui li vedete in arrivo due nuovi religiosi. Il parroco, dopo 12 anni di permanenza, si trasferirà a Potenza Picena. E poi una novità in libreria che riguarda un racconto del nostro territorio, appunto, di Urbino, per conoscere un Urbino umanistica. Una guida di 350 pagine che è stata raccontata da Gianfranco Bellucci con itinerari, curiosità, proposte, citazioni e tutte le curiosità che riguardano, appunto, la città di Urbino. Veramente molto, molto bella questo libro. Insomma, i libri che parlano del nostro territorio sono sempre da acquistare. Allora, vediamo ancora Milena che ci scrive. Grazie mille. Ritornando alla notizia dell'aggressione. Inizia a far paura a questi casi come anche quello di Bruxelles. Già con due vittime. E quindi, grazie Milena, hai proprio ragione. Insomma, non sono casi assolutamente normali e fanno paura perché, come vedete, anche nel nostro territorio esistono queste cose, insomma, che possono essere davvero molto pericolose. Andiamo a parlare di Acqualagna che è stata presentata a Roma. Qui vedete un momento della conferenza stampa, Acqualagna e il Tartufo, una fiera tutta da gustare. Vedete, c'era Mirko Carloni, c'era il sindaco di Acqualagna, c'era Magalli che presenzierà, appunto, a questa edizione. E poi c'era Tiberio Timperi, insomma, anche questa fiera si svolgerà il 28-29 ottobre, l'1, 4, 5, 11, 12 novembre. Novità assoluto, il Tartufo Award, la gara nazionale delle città del tartufo, in collaborazione con Pasta Luciana Mosconi che è sponsor della fiera. E ci sarà anche una puntata su Rai 1 dedicata al tartufo e ai carbonai di Piobbico con Linea Verde. Linea Verde fa tappa nella capitale del tartufo, il programma di Rai 1 sarà a partire dalla prossima settimana nelle Marche ad Acqualagna per fare un foco sul tartufo. Segnatevi questa data perché la puntata andrà in onda il 5 novembre alle ore 12.20 su Rai 1, quindi potrete vedere il territorio del tartufo. Ah sì, prima di andare a vedere le altre notizie e le altre novità che riguardano appunto questo uomo che è stato investito, preso a martellate appunto nel nostro territorio, vi voglio mostrare un appuntamento da non perdere che ci sarà questo fine settimana aperto a tutti, è gratuito, si tiene domenica mattina, ci sarà un buffet in omaggio, potete registrarvi, prenotarvi, ma si parlerà di sanità e di benessere. Quindi è un appuntamento veramente che vi vogliamo consigliare, guardate. Ed ora andiamo avanti con le notizie del Corriere Adriatico, in questo caso si parla del parcheggio che piace a tutti, un parcheggio molto utile soprattutto per i pendolari che utilizzano ogni giorno la stazione ferroviaria di Pesaro e quindi hanno bisogno di un parcheggio e questo veramente un toccasana, questo parcheggio per la sua posizione. 145 posti auto dopo i lavori di sistemazione e asfaltatura, 6 per disabili, verranno collocate anche delle colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, 673 mila euro è il costo complessivo per riqualificare questa zona, 587 mila euro la spesa all'interno dell'importo complessivo per l'esproprio. La variante al PRG per l'acquisizione dell'aria, in consiglio dicono tutti sì i paletti delle scelte tecniche. Ok, è l'operazione San Benedetto e la regione farà la sua parte, il centrodestra approva l'acquisto e si spende a nome di Acquaroli. Quindi via libera, ieri in consiglio comunale con voto unanime all'operazione San Benedetto, l'amministrazione comunale va ad impegnare complessivamente 2 milioni e 800 mila euro, di cui 1 milione e 150 euro con la compravendita dell'aste per i lavori di riqualificazione. E poi investito sulle strisce, anche qui ci sono due pagine dedicate a questo fatto, che è il fatto più importante di cronaca nella giornata di oggi. investito sulle strisce, preso a martellate, l'aggressore è stato arrestato per fortuna. Tutto quello che è accaduto a Fermignano alle 6.40, un'assurda violenza all'incrocio tra le vie Piave, Monte Grappa. L'automobilista è stato bloccato dai carabinieri dopo la fuga, l'accusa, tentato omicidio. Adesso vedremo che cosa accadrà a questo uomo che ha compiuto un gesto così folle. Speriamo che ci sia una giusta punizione. E qui vediamo anche la ricostruzione per tutti coloro che magari si sono collegati adesso alla nostra rassegna stampa. Matteo Bastianelli attraversa la strada e rischia di essere investito da un'auto che lo vede e torna indietro. Lo investe, lo inizia a colpire con un martello almeno 13 volte. Un dipendente di Marche Multiservizi vede la scena e si ferma, salvando per fortuna Matteo Bastianelli. Alle 15 l'aggressore viene arrestato per tentato omicidio. Matteo Bastianelli viene dimesso con una frattura e 13 punti di struttura, avendo anche uno zigomo rotto. La sorella, ci aspettiamo una pena adeguata a tale violenza, perché è una violenza davvero gratuita e non ammissibile. Supplicavo, fermati, ho due figli, ho avuto paura per la mia vita. Bastianelli qui racconta l'incubo, correva, mi ha sfiorato e ho protestato, è tornato indietro e mi ha investito. Insomma, pensate, no? Che cosa accade. Ho avuto paura per la mia vita, ho visto la morte in faccia, lo pregavo di smettere. Questo uomo, tra l'altro, che è stato appunto aggredito, è Matteo Bastianelli, che fa parte anche dell'associazione Fiume di Carta, è tra i protagonisti di una ventata culturale nuova per Fermignano, più inclusiva e partecipativa, come del resto, è nelle sue corde. E poi, qui vedete la foto di Andrea Biancani, perché torna a parlare dei medici a gettone, è un cortocircuito della regione. Biancani quindi parla sui mancati fondi per pagare ore aggiuntive al personale assunto. Il convitto dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro, ci sono novità, perché è stato assegnato l'appalto, la ditta, quindi inizierà il cantiere nel 2024 per ripristinare questo convitto, che sapete è molto utile, perché l'Istituto Agrario Cecchi arrivano studenti da tutta la regione, ma anche dalla vicina Romagna, e quindi necessitano di dormire all'interno della scuola. Ma il convitto è veramente molto, molto obsoleto, ve l'abbiamo anche presentato noi diverse volte, è vecchissimo praticamente, e quindi necessita di un ripristino. Il nuovo convitto di Villa Caprile, per un finanziamento di 3,7 milioni di euro, a distanza di due anni la provincia bandisce la gara di appalto integrato, tra la fine dell'anno in corso per tutto il 2024, cantieri per il convitto e per la palestra, e poi entro la fine del 2024 verrà realizzato anche il recupero del patrimonio storico e arborio dei giardini all'italiana, sapete che ci sono dei giardini meravigliosi proprio all'interno di questo istituto agrario. Ed ora ritorniamo a Fano, in questo caso si parla dell'area ex Agip, spunta un atto del 1956, ripristino a carico dell'ENI, Fratelli d'Italia recupera la delibera di giunta per il via al distributore di carburante. A Fossombrone le parole fonte di cultura, così favoriamo il turismo, è stata presentata in regione questa rassegna che parla di arte, storia e architettura, e avviene appunto a Fossombrone, inizierà il 19 ottobre e terminerà il 23 marzo. Mentre a San Lorenzo in campo si parla di un progetto dedicato alla genitorialità, un aiuto alle nuove famiglie, prende il via questa iniziativa del comune con due professioniste che saranno proprio presenti sul posto, con incontri per le coppie che hanno bimbi piccoli o sono in attesa di figli. E poi ci sono notizie anche per quanto riguarda quell'altra aggressione che è avvenuta a Gabice Mare, agguato a pugni e coltellate, i fratelli ora vanno davanti al giudice, oggi c'è l'interrogatorio proprio di garanzia. Ancora è un mistero sull'origine dell'aggressione, resta ancora un mistero il motivo dell'accoltellamento di Gabice. Il fatto è avvenuto la notte tra sabato e domenica, intorno a Luna, a Gabice nella zona del monumento alle genti di mare, in Viale della Vittoria. Qui un uomo di 57 anni, in bianchino, di origini napoletane, residente a Gabice, è stato aggredito da un uomo di 39 anni e dal fratello di 34. Sono entrambi di origine campane, residenti a Cattolica. Il 57enne e il 39enne, legati da un rapporto di conoscenza da una decina di anni, si erano dati appuntamento nella tarda serata di sabato per definire un lavoro di imbiancatura. Il fratello di quest'ultimo l'aveva accompagnato. Insomma, il movente sicuramente sarà legato a fatti personali oppure perché riguardano il lavoro. Ma oggi appunto ci sarà l'interrogatorio e avremo delle notizie più certe. Ed ora la vis. Andiamo allo sport. La vis strappa un punto con un pareggio. Il muro difensivo dei Biancorossi riesce a reggere l'urto del Pescara di Zeman. Finisce 0-0. Nella ripresa, scusate, polverino decisivo in due occasioni. Non sfruttate alcune chance in contropiede. Si è chiuso un ciclo terribile. Domenica arriva l'area canatese. Giovedì 26 ottobre la trasferta infrasettimanale a Ponte d'Era. Tra lunedì 30 ottobre e domenica 5 novembre la doppia chance in casa con Pineto e Arezzo. E poi la VL è accesa da Bamford. Scott è il leader nel tiro da due punti. Poi attenzione perché la Carpegna Prosciutto è scesa nuovamente in campo, in palestra, ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato. In programma domenica in casa alle 18.30 la Vitre Friguarena contro la Ginova Scafati. Megabox vincente Pistoia ha premiato il grande coraggio. Il coach di Vallefoglia dopo il blitz contro Bergamo. Finalmente la squadra ha preso fiducia nelle proprie qualità. Sabato sera ci sarà la trasferta a Cuneo. C'è una notizia che riguarda anche il nostro Valentino Rossi. Si sfide a tutto gas, c'entra il podio anche in auto. È davvero un campione. Rossi ha concluso il GT World Challenge Fanatec con belle prestazioni nella sezione sprint. E poi vediamo anche le altre notizie. La soddisfazione della Vispesaro per questo pareggio finisce senza reti all'Adriatico. La Vis resiste al Pescara di Zeman, un punto prezioso contro una big. Quindi Pescara 0, Vispesaro 0. L'allenatore Banchieri elogia la squadra. Abbiamo chiuso la porta. C'è Cacci super. Baioni fa un'analisi tecnica invece dell'exploit di Brindisi. Quando ci passiamo la palla siamo squadra. Insomma per fortuna una vittoria che ha rincuorato anche gli appassionati di questa squadra che giovedì chiaramente alle 21.20 potranno vedere la puntata di Insieme a Carestro in diretta e conoscere tutte le novità sia della partita appena trascorsa ma anche le novità per la prossima partita in casa. Allora vi ricordo che giovedì sera alle 21.20 avrete anche la possibilità di vincere i biglietti per la prossima partita della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Chiudiamo anche in questo caso con il meteo e vediamo una giornata molto nuvolosa. La pioggia arriverà prevalentemente nell'entroterra. Nella costa comunque permane una grande nuvolosità. Le temperature come vedete si stanno abbassando. Giovedì e venerdì invece tornerà il sole. Sabato e domenica al momento sono previste piogge. Ed ora carissimi amici grazie per essere stati con noi. Buongiorno Luciano Ioni, buongiorno Emanuele Gambini, Daniele Malandrino. Insomma grazie per essere qui con noi. Andiamo a vedere gli appuntamenti su Rossini TV perché questa sera vi facciamo vedere l'ultimo dibattito che abbiamo realizzato per parlare del Festival GAD. E a seguire vedrete, quindi questa sera c'è il teatro su Rossini TV, la commedia AA Aspiranti Assassini che è questa messa in scena portata avanti dalla compagnia dell'Anello di Forlì. E poi domani, attenzione, una nuova puntata della Finanza è per Tutti. Questo programma che vi sta piacendo moltissimo perché comunque è breve ma è molto molto utile. domani ad esempio avrete la possibilità di capire, ecco partendo da una domanda un po' suggestiva, metto tutto sotto il materasso? Come investiamo i nostri risparmi al meglio? E allora con noi ci sarà Vincenzo Rossi che è consulente finanziario vi darà tutte delle indicazioni utili per gestire al meglio le vostre finanze. Questa sera il nostro telegiornale, vi aspetto quindi alle 19.30 e replica alle 20.30 e poi se volete vedere l'edizione di ieri dovete aspettare le 13.30 di oggi. Potete rivedere insomma le notizie e quelle che poi oggi rivedete un po' anche sui nostri giornali. Grazie per essere stati con noi, l'invito è sempre quello di salvare il nostro numero di WhatsApp 370-366-7210 e mettervi in contatto con la nostra redazione inviandoci foto e video delle segnalazioni sul nostro territorio. Continuate a restare su Rossini TV anche seguendoci sui nostri social. Grazie e buona giornata a tutti.